Ciao ragazzi sono sempre io il vostro Matt Harmon e con questo video comincio la mia nuova rubrica Parlo dei miei idoli. Il primo idolo di cui voglio trattare è LP, famosa ai tanti per la canzone Lost on You Benissimo cominciamo subito Ovviamente il vero nome di LP è Laura Pergolizzi, nata in America ma che lascia tradire origini non proprio statunitensi Infatti sua nonna è Nabulodana e suo nonno è per metà siciliano e per metà irlandese Benissimo, è impossibile una volta ascoltata e ammirata non amarla perché la sua voce è forte e graffiante I suoi capelli ricci e ribelli che ha scritto canzoni per le più famose cantanti come Rihanna, Rit O'Hara, Cristina Ghilera e qualcun altro Io personalmente l'ammiro molto anche come persona perché ho letto qualcosa di lei ed è una persona eccezionale E ovviamente data la sua dote canora non si può altrettanto amarla Io personalmente concluderei qui il video perché non volevo fare una cosa lunghissima Solo accennarvi qualcosa e dirvi che è un mio idolo sostanzialmente Benissimo, spero che veda questo video LP perché sicuramente lo vedrà perché sono io e lei vede le mie cose Vi saluto e vi ringrazio Ciao